Ben trovati, giornata di vigilia, da adesso in poi parla il campo, quindi lasceremo spazio ai risultati, alle parole di Antonio Conte già nella giornata di oggi. Giornata di vigilia, tra poco ad Appiano Gentile, aggiornamenti su Sport Mediaset, sul sito, sulla app di Sport Mediaset, alle 13 il servizio sui temi della giornata. Però iniziamo qui a fare un commento generale di tutte le notizie che riguardano il mondo nerazzurro e leggendo un po' per giornali e web, dichiarazioni, insomma anche quelle di Allegri, che mi sembra che stiano cercando un po' tutti di mettere pressione a questi Inter, tutti parlano di uno scudetto possibile dopo solo due giornate, dopo solo due partite, sì, abbastanza buone, però neanche così tanto, viste anche le difficoltà che la squadra ha avuto a Cagliari, quindi il mio commento è comunque piedi per terra, partita per partita, senza montarsi troppo la testa, anche perché adesso arriva veramente un periodo di fuoco, sette partite in 23 giorni con le gare più importanti, la Champions, il derby, il Barcellona, la gara contro la Juventus che chiuderà questo periodo di fuoco prima della prossima sosta e da qui veramente si capirà se è un Inter da scudetto, se è un Inter che può dire la sua in questa stagione, però bisogna mantenersi molto equilibrati con i giudizi, con le aspettative, perché ha detto bene Lukaku, non si può chiedere a un gruppo totalmente nuovo, con un allenatore nuovo, di vincere subito lo scudetto dopo che comunque c'è di fronte una Juventus e un Napoli, squadre più collaudate, una Juventus che vince da otto anni consecutivi, quindi questo è il mio pensiero, chiedo anche cosa ne pensate voi, aspetto i vostri commenti, intanto è arrivata la retromarcia della gente di Lautaro Martinez dopo la sparata, insomma, in Argentina che ha destato abbastanza clamore dicendo che un giorno gli piacerebbe vedere a Barcellona, lui e Messi insieme, ha detto che le sue parole sono state malinterpretate, che lui pensa che Lautaro abbia tutto per vincere con l'Inter, che vuole rimanere in nero-azzurro, però avrebbe potuto anche dire che lui e Messi un giorno potranno giocare con la maglia dell'Inter, come abbiamo detto scherzosamente, ma neanche così tanto noi nella giornata di ieri, per qualcuno c'è già stato un adeguamento importante dell'ingaggio di Lautaro Martinez, verificheremo la cosa, comunque chiaramente il procuratore del Toro fa il suo lavoro, cerca subito di monetizzare questa tripletta realizzata con la maglia dell'Argentina contro il Messico, tutte queste voci che nel suo paese paragonano Lautaro Martinez addirittura a Lionel Messi, fatto sta che comunque 9 gol in 13 apparizioni con la nazionale argentina sono uno score da brividi, da potenziale crack e quindi chiaramente chiede denaro, chiede aumenti, chiede un rinnovo di contratto importante e qui bisogna vedere anche l'Inter e Marotta cosa faranno con questa clausola recissoria da 111 milioni, che sembravano tanti ma non lo sono poi così per un giocatore che potrebbe veramente diventare un crack a livello mondiale e Marotta ha queste clausole, non ha mai guardato con grande benevolenza, quindi vedremo se si andrà a un rinnovo a fine mese, a fine ottobre, dovrebbe essere questo il periodo della discussione con il suo agente Carlo, sia che se si andrà a toglierla, aumentarla o se si manterrà a 111 milioni, che potrebbe essere anche però un po' bassa, visto quello che sta facendo, e se soprattutto Lautaro dovesse ripetersi, come ci auguriamo anche con l'Inter in questa stagione, Lautaro che dovrebbe cominciare dalla panchina domani con l'Udinese, con Conte che sta provando delle soluzioni diverse, sta provando anche dei moduli tattici differenti per cercare di sorprendere gli avversari, per prepararsi a questo periodo così difficile, per avere delle alternative, quindi ha testato sia il tridente, 3-4-3, con Lukaku naturalmente punta centrale, Sanchez e Politano esterni, un modulo molto offensivo, e anche nella giornata di ieri, poi vi diremo cosa farà nella rifinitura, un 3-4-2-1, alzando Sensi, un po' come faceva anche il nazionale, quasi da trequartista, con Sensi e Politano alle spalle di Lukaku, e Sanchez e Lautaro Martinez, quindi, che andrebbero in panchina, vedremo cosa proverà nella giornata di oggi, poi magari anche domani mattina nella rifinitura, che sono un po' le indicazioni migliori, però il fatto sta che Conte sta studiando anche delle alternative al 3-5-2 classico, con cui ha giocato le prime due gare per provare a sorprendere gli avversari. Un'altra notizia positiva che abbiamo trovato è che Conte avrebbe potuto avere un vice Lukaku, gli era stato proposto Matri, gli era stato proposto comunque anche Rebic, che poi è finito al Milan, però lui non ha voluto un altro giocatore, una quinta punta, perché pensa che possa farlo benissimo questo ruolo Sebastiano Esposito, e quindi è una buona, buona notizia, che dimostra, insomma, la fiducia che c'è in Sebastiano Esposito, e anche la voglia comunque di Conte e della società di potergli dare qualche chance in questa stagione così importante e farlo crescere ulteriormente. Abbiamo visto poi anche il grandissimo gol che ha segnato con l'Under-18 dell'Italia, che dimostra, insomma, tutto il suo valore, quindi bene che non si sia portato un giocatore di esperienza over 30, piuttosto meglio dare una chance a un prodotto del settore giovanile che in estate ha fatto vedere tutti i suoi numeri, che poi ha un feeling particolare con Romelu Lukaku, e concludiamo con le parole del nuovo 9 Nerazzurro, insomma, che ha detto che c'è un gruppo speciale, è un allenatore giusto, un gruppo speciale, finalmente è riuscito a coronare questo inseguimento di Conte che durava dal 2014 quando si trasferì invece all'Everton, lo voleva prima anche alla Juventus, poi al Chelsea, e adesso è riuscito a giocare, ad averlo come giocatore all'Inter, un gruppo speciale, non si può parlare subito di Scudetto, però sente le sensazioni giuste e sente che l'Inter sia la scelta giusta per vincere qualcosa e per dare anche una svolta ancora più importante alla sua carriera, parole già da leader, come si vede sui social, su come si comporta in campo, dove ha conquistato un po' tutti, e adesso lo aspettiamo a San Siro per la terza di campionato, se dovesse segnare ancora la terza partita consecutiva, ugualierebbe il record di un certo Niers, che negli anni, alla fine degli anni 40, insomma era il bomber principe dell'Inter, numeri quindi importanti, però anche qui rimaniamo coi piedi per terra, alle statistiche ci penseremo dopo le gare, quando i traguardi saranno stati già raggiunti, e bisogna pensare a Udinese, Slavia Praga, poi al derby, prima questo trittico, poi Lazio, Sampdoria, Barcellona, Juventus, per chiudere questo mese di fuoco, e da piano aspettiamo anche le parole di Antonio Conte, di capire come sta Sanchez, se è pronto il suo esordio in maglia nera-azzurra, e tutto quanto accadrà dalla pinettina, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, se non l'avete ancora fatto, siete in tanti che non siete ancora iscritti, mi raccomando, e poi i vostri like, i vostri commenti, e mi raccomando, rimanete sempre sintonizzati!